Il taglio delle indennità dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle permetterà il proseguimento di un importante progetto che coniuga solidarietà e lotta agli sprechi. Ce ne parla Maria Chiara Perri. Sono oltre 500 le persone in difficoltà economiche che potranno continuare a ricevere generi alimentari d'eccedenza grazie all'attività di volontariato di MoMA 5. L'associazione di Marotta Mondolfo, che dall'aprile 2016 opera nella lotta allo spreco alimentare e nel sostegno a progetti di economia circolare, rischiava lo stop dopo aver perso il comodato d'uso gratuito per il deposito dei beni. Ora, grazie a una donazione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle della Regione Marche è stato pagato l'intero affitto annuale per una nuova sede in via litoranea a Marotta. Come i nostri parlamentari a Roma, noi consiglieri regionali nelle Marche ci tagliamo lo stipendio e questo stipendio vogliamo restituirlo ai cittadini e questa iniziativa mi sembra veramente meritevole. In un momento in cui c'è egoismo, non c'è solidarietà, queste persone hanno messo in piedi questa iniziativa per riciclare gli alimenti che dovrebbero essere sprecati. L'associazione si occupa in principal modo di portare avanti la cultura del non spreco, del riuso, del riutilizzo. Abbiamo altri progetti, vedremo di integrare anche con il riutilizzo dei farmaci. Nell'arco di 18 mesi l'associazione è arrivata a gestire settimanalmente consegne di 12 quintali di ortofrutta, pane e prodotti da formo, con un impegno complessivo di 35-40 ore di lavoro settimanale. 35 volontari si occupano del trasporto, dello smistamento e della distribuzione dei generi alimentari a 130 famiglie nella zona tra Marotta-Mondolfo, Pergole e Fossombrone. Soprattutto nuclei monoreddito, molti pensionati italiani e famiglie straniere da decenni residenti in Italia. Iniziative di mutuo aiuto che si auspica si diffondano in tutta la regione. Il Movimento 5 Stelle si dice pronto a sostenerle grazie al fondo costituito con il taglio delle indennità dei consiglieri. 200.000 euro, di cui 100.000 già donate al comune di Arquata del Tronto dopo il sisma.